Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Lucky Prizon Oggi faremo tante tante belle cose ma prima di cominciare voglio annunciarvi una cosa Ovvero che questa sera alle 21 ragazzotti starò in live In live proprio su questa modalità e faremo cose spicy insieme Anche delle robettine che vabbè per il momento non vi voglio esplorare Però ci saranno anche cose future riguardanti la serie quindi non mancate Come al solito il link in descrizione Detto questo ragazzotti dobbiamo fare un pochettino di cose Prima di tutto fare dei rank up perché abbiamo 400 milioni Cose sempre che come avete visto negli scorsi video mi avete regalato a voi E seconda cosa aumentare il livello dell'isola Anche perché facendo il rank up penso che si vanno a sbloccare posti nuovi con delle robettine molto molto buone E se avanza tempo spendiamo anche un pochettino di ors che tutto sommato ci può stare Quindi facciamo un rank up così andiamo alla S e andiamo anche a vedere come ogni volta il rank S Come ci viene presentato Molto interessante vero i blocchi di smeraldo sono molto buoni anche perché fino ad ora non si erano ancora trovati L'ultima volta se mi ricordo bene avevo preso praticamente i blocchettini singoli di smeraldo Ma appunto non ci potevo fare nulla ragazzi perché non potevo metterli insieme C'era il crafting bloccato Così ok anche il premio va bene Per i giorni consecutivi così almeno possiamo piazzare nell'isola E in teoria hanno un bel valore Li posso mettere sotto l'isola e fare un pochettino Devo ancora fare un po' di test per vedere ogni blocco quanto mi dà effettivamente Ok la mia isola per il momento è a livello 113 Vorrei vedere quanto aumenta se ci metto un solo blocco di smeraldo Potrebbe aumentare anche di molto e quindi il pezzo di sotto potremmo fare in teoria di smeraldi Ci ho già messo un pochettino di diamanti ma per il momento non posso metterne altri Perché al mio livello i diamanti non si sono ancora trovati non si scapano E penso che con i prossimi rank up si possa fare qualcosa comunque Beh non ha molto senso Mi dice che è 115 ma prima era 116 Cioè io se metto lo smeraldo mi va in negativo? Mi volete dire questo? Nel dove per ora vendiamoli questi qua E no ragazzi è strano questa roba qui Mi è diminuito di un livello What? Ah no era 113 prima Ok ora è 115 Va bene va bene allora alzo perché Alzo perché ragazzi no no è giustissimo così va benissimo Quindi così possiamo aumentare un pochettino il livello dell'isola Non fa tantissimo lo smeraldo probabilmente andando avanti Sbloccheriamo appunto nuovi materiali che ci diranno sempre più robettine Ok sono salito anche al rank t quindi giustamente andiamo a vedere pure quello Che è più o meno uguale a quello di prima ma guardate un pochettino ragazzi Ci sono questi bellissimi diamantini sparsi ovunque E tra l'altro stavo notando una cosa ma c'ho il piccone che è tipo ultra veloce Ah è vero io c'ho ancora il piccone gamma ma potrei prendere quello del mio VIP Ehm sì in effetti in effetti dovrei Comunque andiamo un attimo a vedere quanto si guadagna facendo così Ovviamente ho scavato per mezzo secondo 20.000 Ragazzi per aver cliccato giusto un pochettino così a caso è più che buona come roba Quindi prossimo rank la U Ho visto che molti comunque si lamentano del fatto che i rank si facciano veramente veramente velocemente Però non è quello lo scopo del server Cioè nel senso sì il server è impostato in questo modo Ci sono server in cui per arrivare alla Z ci si mette 20 anni Qua invece alla Z ci si arriva molto facilmente Eh la cosa particolare di questo server sono appunto i prestigi che Sì ok arrivi facilmente alla Z ma poi c'è il prestigio 1 il 2 il 3 e così via Quindi diciamo ha senso farli anche velocemente Eccoci anche alla V Dimmi ok ragazzi perfetto ci sono i blocchi di diamante Meno male meno male perché questi qui veramente li volevo tantissimo E finalmente ora ce li abbiamo perfetto perfetto Ne vendo giusto qualcuno per vedere quanto costano Vabbè ragazzi così velocemente 84.000 proprio perfetto E così possiamo finalmente poco a poco cominciare a riempirci sotto l'isola per bene appunto dei diamantini bellissimi E aumentare quindi di conseguenza il nostro livello Quindi me ne vado un attimo nella mia isoletta bella bella calma Quindi ragazzi facciamo un bel kit Andiamo a prendere un kit VIP appunto il mio che non dovrebbe essere questo appunto dovrebbe essere il crystal Ritira kit e sbamme eccocelo qua Quindi il mio intermedio tranquillamente lo posso anche buttare proprio di cattiveria Indosso intanto il crystal Butto via ragazzi tutto c'è spada piccone Non mi servono queste cose cioè ce l'ho già migliori così quindi sti cavoli E in teoria ci siamo Quanto è potente? Fortuna 6? Uh ragazzi fortuna 6 vuol dire che questo qui ci dà belle robe veramente E potremmo provare anche incantarlo Proviamo con enchant Uh ragazzi ma l'hanno migliorato hanno detto alcune cose sbloccabili del rank A Beh sono tutti del rank A però boh ok Cosa potremmo metterci? La migliore sarebbe excavation non lo so E excavation andava in conflitto con una di queste ma non so quale forse explosive Intanto excavation non ci arriverò mai 7000 è veramente troppo Dai proviamo explosive Penso di averlo messo ok L'ho fatto questo costava 1k E poi non ne posso più perché ho bisogno di 1500 orz Quindi ora intorno a ciò explosive 2 nel piccone E potrebbe essere buona come cosa dovremmo andare a provare in effetti Prima però poso un pochettino di robe perché giustamente ragazzi sono un po' pieno Mi sto portando dietro il mondo e non mi serve Proviamo quindi il picconcino Voglio scavare soltanto un blocco Mi ha dato i 4 questo qui è fortuna che ovviamente va a moltiplicare tutto Però non mi sembra stia proprio funzionando Ah no explosive forse è vero Era ogni esatto sentite le esplosioni No le mie esplosioni No sono mie si sono mie Si esatto Ogni tot blocchi spaccati Un po' di robe le va a disintegrare a caso E ci sono esplosioni a giro Molto molto buono Però forse explosive serviva per spaccare i lucky block Non me lo ricordo Sapete che non mi ricordo se scava Perché in effetti lo vedete Che fa l'esplosione ma non mi scava più blocchi Penso che sia fatto per i lucky block Quindi faremo un attimo vedere Schiaviamo l'intorno Non lo so Sinceramente non lo sto capendo Sinceramente non lo sto capendo Oltre il casino farà qualcosa immagino Comunque dai non importa per il momento Prima o poi ragazzi veramente ci arriveremo a 7000 Lo so che l'ho un po' forse sprecato No alla fine ne ho sprecato Ci sono stato 1500 di orz Perché sì ho fatto 500 E poi la botta era 1000 Quindi non è che sia una cosa così impossibile Quella che ho fatto io E boh 7000 Ne mancano ancora 6000 Ma ce la vorremmo anche fare Magari li compriamo Non so nemmeno se sono vendibili Ma non penso sinceramente Ma in futuro forse lo aggiorneranno Non lo so Parlo da ignorante in questo momento Come effettivamente non lo so Quindi torno nella mia isola E comincio a mettere un pochettino di questi blocchettini lezzi ragazzi Io non so in teoria che livello siamo dell'isola Mi sembra eravamo a 130 Vabbè qualcosa di simile comunque Non di particolare Vorrei giusto per cominciare Mettere il primo strato sotto So che è già impossibile come cosa Perché tipo non ho abbastanza diamanti Ne ho presi un pochettino Ma non sono troppi Però intanto ragazzi cominciamo Comincio magari a fare il bordo Piazzo questi qui E vediamo a che livello riusciamo ad arrivare Il mio obiettivo sarebbe Tranquillamente Ve lo dico che ritondo Di arrivare Non voglio mirare troppo in alto Perché tanto so che non ci arrivo Ma qualcosina Tipo non lo so 300 400 di livello Per cominciare Con questi blocchi qua Forse un po' di più Non lo so Io vorrei Ve lo dico che ritondo Arrivere a 500 Almeno a fine di questo episodio qua So che tanto però So che c'è gente che ha fatto molto molto di più Però insomma Noi così a cazzeggio 500 è anche un bel po' Ecco Partendo soprattutto da una base Bassissima in effetti Vediamo dai Vediamo se ci riusciamo Ok ragazzi L'ho quasi piazzato di tutti E effettivamente non ce l'ho fatta Completare il pezzo sotto Mancano ancora tantissimi blocchi Però poco a poco si farà E vi ripeto Che il mio scopo Serve quello di fare una mega torre Che comunque Con i diamanti Va tutta verso il basso Poco a poco Ce la faremo Vediamo quindi Quanti livelli Siamo riusciti a fare Non togliere ci basta cliccare qua Sul livello isola E siamo a 1271 Ragazzi Wow Pensavo di farne sinceramente Molti 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 meno Ma io Come ho detto Il mio scopo era quello di farne 500 1200 è veramente tantissimo Questo vuol dire che Se dovessi riuscire a completare Tutto questo qua Forse forse Riusciremmo ad arrivare anche a 1500 A questo punto Beh forse anche di più Non lo so E' figo ragazzi E' figo Praticamente Ogni piano Sono quasi 2000 livelli E di piani ne possiamo fare molti Poi ovviamente Una volta che aggiungeremo Anche soltanto un blocco qui Ci sarà tutta la piramide Verso il basso Di blocchi E' molto interessante come cosa ragazzi A questo punto Leviamo questa robettina qui Così la nostra isola Rimane con Diciamo Un tono normale Da isola standard Ma sotto in verità Sarà ricchissima Con tutte le nostre riccanze Oltre l'ulto ragazzi Sta piovendo Lo so Lo odio E' bruttissima come cosa Ma su cosa sarebbe qui Ci sono anche i boss Prima o poi li andremo a affrontare Io non so ancora come E' una cosa che va fatta insieme Quindi Penso che quello lì Sarà Un argomento Magari di una live Ma forse riuscirò a estrapolarci Anche un video Non ne ho la minima idea Però Certe cose le farò in live E Non direttamente in video Ecco perché purtroppo Serve tanta gente Per fare il boss E Magari se lo chiedo ora in chat Qualcuno lo andrebbe anche a fare Però non saremo mai organizzati per bene Detto questo ragazzi Spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto Vi ricordo in descrizione Il link per le live E quindi Ciao a tutti